Al teatro Mecenate un'immersione coinvolgente tra i linguaggi eterogenei della danza contemporanea. Ad Arezzo le storiche rassegne, invito di sosta a danza contemporanea ad autore e altre danze, portiamo i ragazzi a teatro, si riuniscono in La Danza che Muove. Sosta Palmizia è una realtà a livello nazionale, ha sempre proposto lavori di qualità e quest'anno siamo appunto di fronte a una stagione di cinque appuntamenti rivolti non semplicemente ai più piccoli ma a un pubblico eterogeneo, proprio di età e tra l'altro appunto con dei matinee dedicati alle scuole. Un programma organico ed inclusivo che si rivolge ad un pubblico esteso con cinque spettacoli, incontri con artisti ed artiste e numerosi laboratori aperti a tutte e tutti senza limiti d'età dal prossimo 26 novembre. Quest'anno abbiamo abbracciato due diverse rassegne, la nostra rassegna storica, invito di sosta, la danza d'autore e portiamo i ragazzi a teatro. Abbiamo dieci spettacoli, cinque titoli diversi, siamo molto rivolti verso l'adolescenza e verso l'infanzia quest'anno con una grande e generosa attività di formazione. Pensiamo davvero che il corpo umanizzi, aiuti, sostenga, ricrei, trasformi la nostra possibilità di essere al mondo con delle qualità che sembra continuamente che siano sull'orlo della sparizione, poi sappiamo che non è così, ma sicuramente la danza che dice tutto quello che non si può dire altrimenti, a parole, ha dei valori estremamente umani di cui abbiamo molto bisogno. Grazie.